Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video molto speciale, infatti in questo video vi farò vedere come installare Cydia funzionante sul vostro iPhone 4 con iOS 7 jailbroken. Iniziamo subito! Bene, prima di cominciare però ci tengo a fare tre premesse. Prima premessa, questa versione di Cydia, ossia la 1.1.8, è ancora in fase di prova, di conseguenza è veramente molto instabile e presenta alcune imperfezioni grafiche. Seconda premessa, molti pacchetti all'interno di Cydia non supportano attualmente iOS 7, quindi non vuol dire che se avete Cydia avrete la libertà assoluta di installare tutti i pacchetti possibili e immaginabili, perché come vi ho appena detto, molti di loro non supporteranno iOS 7, almeno per il momento. Terzo, a causa di alcuni bugs interni, ogni volta che si esegue l'installazione di un pacchetto bisognerà eseguire due riavvii usando il boot tetrad di OpenSnow per far sì che esso funzioni correttamente. Detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo con la guida. Vediamo tutto l'occorrente, come prima cosa ci servirà il nostro iPhone 4 con iOS 7.0 o 7.0.2 jailbroken, quindi prima di seguire questo video dovrete eseguire il jailbreak del vostro iPhone 4 con iOS 7. Se non sapete come fare potete cliccare su questa annotazione e verrete riportati a un mio video tutorial in cui spiego come eseguire il jailbreak del vostro iPhone 4 su iOS 7, perché è fondamentale. Prima quindi eseguite il jailbreak se non l'avete ancora fatto e poi potrete continuare a seguire questa guida per installare Cydia. Quindi una volta assicurati che avete il root e l'SSH installato sul vostro iPhone 4, continuiamo con l'occorrente. Ci servirà iPhone Box, un programma scaricabile gratuitamente da internet, vi metto il link in descrizione, e il terminale del Mac, il quale è già incluso in OS X. Infine vi servirà un pacchetto zip creato da me che vi metterò il link di download in descrizione e l'ho chiamato debsupport.zip, dentro troverete tutto l'occorrente per installare Cydia. Detto questo iniziamo con il tutorial. Prima voglio però mostrarvi che andando su impostazioni, generali, info, sul mio iPhone 4 monto iOS 7.0.2, quindi questo video non è un fake ma è assolutamente reale. Spostiamoci sul Mac, come vedete ho la mia cartella chiamata debsupport, ancora una volta vi lascerò il link in descrizione, e all'interno troviamo la cartella var e poi questi tre installer deb. Noi che cosa dobbiamo fare? Come prima cosa apriamo l'applicazione terminale e mettiamola un attimo da parte, perché prima di usarla dovremo recuperare l'indirizzo IP del nostro iPhone. Quindi da adesso andiamo su impostazioni, torniamo indietro fino alla sezione principale, dopodiché andiamo su wifi e tocchiamo questo piccolo simbolo I che sta per informazioni della nostra rete. Come vedete il primo indirizzo sarà proprio l'indirizzo IP e noi dovremo copiare questi indirizzi IP su un foglio di carta perché ci servirà ora al computer. Quindi sul terminale scriviamo ssh root chiocciola e ora inseriamo l'indirizzo IP che ci siamo assegnati. Quindi ovviamente cambia da utente a utente, nel mio caso è 192.168.1.68. Una volta inserito l'indirizzo IP diamo invio. Ora ci chiederà di inserire la password che è alpine, quindi scriviamo alpine, mentre voi premete i tasti sullo schermo non comparirà nulla ma in realtà starete scrivendo. Quindi digitate alpine e date invio e una volta dato invio sarete entrati in ssh nel vostro iPhone. Ora apriamo il programma iPhone Box, andiamo su file di sistema iOS, dopodiché apriamo la cartella var e se al suo interno ci sono la cartella cache e la cartella lib dovremo cancellarle. Se no, se non ci sono, non facciamo niente. L'importante è che queste due cartelle, ossia cache e lib, non siano presenti all'interno del nostro iPhone perché dovremo sostituirle con quelle all'interno del mio pacchetto dev support. Quindi apriamo la cartella var e all'interno troviamo le stesse cartelle che dovremo ricopiare all'interno del nostro iPhone perché queste sono le cartelle con i file giusti. Quindi una volta fatto questo cambio di cartelle possiamo anche chiudere iPhone Box e tornare sul terminale. Dovremo scrivere apt-get-update, comunque tutti questi codici li troverete in descrizione. Diamo invio e inizierà l'aggiornamento delle sorgenti. Una volta finito dovremo scrivere apt-get-install-cidia. Scriviamo questo comando e diamo invio. E una volta finita questa breve procedura scriviamo apt-get-install-mobile-substrate. Una volta digitato anche questo comando premiamo invio e mobile-substrate verrà installata nel nostro iPhone. Prima però ci chiederà se siamo sicuri di continuare quindi digitiamo y e premiamo invio e in questo modo confermeremo l'installazione di mobile-substrate che come vedete dopo pochi secondi è stato installato. Ora possiamo mettere un attimo da parte il terminale e riaprire iPhone Box. Andiamo su file di sistema iOS. Poi apriamo la cartella var. Apriamo la cartella mobile. E trasciniamo all'interno della cartella mobile i tre file deb che trovate nel mio archivo di supporto. Quindi li selezioniamo tutti e tre. E li copiamo all'interno della cartella mobile del nostro iPhone 4. Chiudiamo iPhone Box e dal terminale dovremo scrivere cd spazio slash var slash mobile. Diamo invio. E una volta scritto questo comando ne scriviamo un altro che è dpkg-i e poi copiamo il nome del primo pacchetto ossia apt7-lib. Lo copiamo tutto, in questo modo tasto destro facciamo copia e incolliamo il nome nel terminale. Una volta che il comando sarà completo diamo invio e il primo pacchetto verrà installato nel nostro dispositivo. Ora ripetiamo la stessa identica cosa con gli altri due. Quindi scriviamo dpkg-i e ora copiamo il nome di sidialproj 1.1.8+, quindi il terzo. Copiamo il nome, facciamo copia e lo incolliamo nel terminale. Incolla, ora premiamo invio e come vedete anche la prima versione di sidia verrà installata. Ora dovremo installare il fix, quindi facciamo lo stesso con il terzo e ultimo pacchetto. Digitiamo dpkg-i e copiamo anche questa volta il terzo pacchetto che è il fix che rende sidia compatibile con iOS 7. Lo incolliamo e diamo invio e anche l'ultimo pacchetto di sidia verrà installato sul nostro iPhone. Ora dovremo uscire dal terminale e una volta usciti dovremo riaprirlo immediatamente. È proprio importante uscire e rientrare. Ricolleghiamoci in ssh, quindi come prima ssh root, chiocciola e poi il vostro indirizzo ip, invio. Ora reinseriamo la password alpine e premiamo invio. e questa volta dovremo digitare questo comando, ossia rm-rf-var-mobile-library-caches-asterisco. Una volta digitata questa lunga stringa che comunque vi ripeto troverete in descrizione, premiamo il tasto invio e una volta che il terminale ci darà questo messaggio di conferma avremo finito di installare sidia. Ora eseguiamo un boot tethered del nostro dispositivo. Se non sapete di cosa sto parlando è tutto spiegato nell'altra mia guida di cui vi ho parlato all'inizio in cui spiego come eseguire il jailbreak, che ricordo dovrete fare prima di installare sidia. Quindi aspettiamo che esegua il just boot del mio iPhone 4. Come vedete è schermata bianca, si sta per avviare. Ecco le scritte che stanno a significare il booting tethered. Ok, siamo all'accensione con il logo della mela ed eccoci qua. Quindi sblocchiamo il nostro iPhone 4 e come vedete nel primo spazio libero troviamo l'icona di sidia che andiamo subito a lanciare. Sarà già configurato. Attendiamo un attimo, il primo avvio potrebbe essere un po' lungo. E se ci dà questo errore, ignoriamolo, premiamo ritorna a sidia. E come vedete ragazzi sidia è in funzione su iOS 7. Questo è il bug grafico di cui vi parlavo, ossia le interfacce non sono centrate sul display dell'iPhone 4. Con 4 GSM che monta iOS 7.0.2, sidia 1.1.8+. Come vedete questo è il vero sidia in funzione su iOS 7. Posso tranquillamente aprire ogni categoria, andare in tutte le schede, scheda novità. Ovviamente posso eseguire l'aggiornamento delle sorgenti. Posso andare nella scheda gestisci che ci permette appunto di guardare i pacchetti, guardare le sorgenti eccetera. E infine posso cercare un pacchetto. Quindi ragazzi, in questo video vi ho mostrato come installare sidia su iOS 7. Spero che vi sia piaciuto. Per qualsiasi problema non esitate a commentare o a mandarmi un messaggio privato. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e Twitter. I link li trovate in descrizione. Detto questo non mi resta che chiedervi un ultimo favore ragazzi. Condividete questo video. Condividetelo in modo che tutti possano sapere che in realtà un jailbreak di iOS 7 esiste. Detto questo vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Un grande saluto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!